Villa Carcina, Villa Glisenti per le scelte di Puntelli, sono con il maestro Donini che sarà uno dei protagonisti della Resistenza e uno dei protagonisti di Cari Maestri e proprio in questi giorni abbiamo la conferenza stampa al Museo del Correggio, il 14 di ottobre inaugureremo una mostra importante e intanto ricordiamo a chi ci segue di venire qui a Villa Glisenti, Villa Carcina per le scelte di Puntelli, per una mostra eccezionale, eccellente dove vedrete tante opere d'arte contemporanea. Maestro Donini, diamo l'appuntamento per il 14 di ottobre al Museo del Correggio Sicuramente saremo al Museo del Correggio il 14 ottobre, sarò in compagnia di tantissimi artisti di livello nazionale e internazionale per cui vediamoci veramente tutti assieme al Museo del Correggio il 14 ottobre. Vi aspettiamo per l'arte contemporanea italiana.